Musica 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 Vorrei solo confermare l'appoggio totale dell'Ateneo per lo sviluppo di questa scuola in tutti i modi che voi riterrete siano necessari Musica Potrei dire I had a dream quando insieme a Venanzio e agli altri colleghi abbiamo impostato questa scuola La scuola Tobagi di giornalismo i ragazzi devono essere orgogliosi e saperlo è la migliore d'Italia non c'è proprio dubbio Un giornalista deve intanto sapere molto bene di qualcosa devi saperne meglio se tu intervisti un matematico devi saperne quasi più di lui di matematica cioè la specializzazione, la cultura la non genericità della cultura oggi è fondamentale Quindi questa idea dell'incontro tra il mondo dell'università e il mondo della professione è un'idea abbastanza originale e direi anche un'idea che può essere feconda e un'occasione di arricchimento per tutti E allora Fabio Savelli, secondo biennio è partito dalla scuola di giornalismo e adesso è lui che dà i consigli ai ragazzi Da subito specializzarsi anzi direi iper specializzarsi già nei primi mesi di master provare a trovare una nicchia una passione Il punto per un giovane giornalista soprattutto è rendersi indispensabile che sembra un assurdo ma non lo è Siamo tutti alla ricerca di una soluzione di una strada per rendere il nostro mestiere qualcosa che dia valore aggiunto che dia qualcosa di più Lo ripeto ma insiste e aiuta Don't be smug Cioè non siate autocompiaciuti Non dovete avere nessuna paura della precisione Leggete libri Leggete libri Leggete libri Leggete libri Leggete libri Leggete libri Leggete libri